Allora, dunque, il biondo, geniale e famoso generale Custer qui presente ha riflettuto a lungo sulle parole da lei pronunciate e ha partorito un piano di battaglia nuovissimo e migliorato! Sentite, io griderò a piena voce che noi non intendiamo attaccare e loro, sentite questa, penseranno che vorrà fare adesso quel genio del generale Custer? Oh, speriamo che mi sia amico e noi vanno! Li attacchiamo!